Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito la restituzione anticipata da 30 a 10 anni delle rate di un prestito che il Comune di Pescara aveva chiesto ed ottenuto nel 2015. Ora però la Giunta Masci è nei guai con quasi 13 milioni di euro che vengono a mancare in bilancio e con gli aumenti delle forniture energetiche che potrebbero far lievitare il debito a 17 milioni. L'amministrazione comunale auspica a questo punto un intervento del Governo e in particolare del MEF con un decreto ad hoc, almeno per quel che concerne le somme pregresse da restituire. Perché come se un dipendente comunale ad esempio acquista una casa sapendo di poter contare su uno stipendio e fa il mutuo a 30 anni, ad un certo punto la banca dice no, non devi restituire in 30 anni, lo devi restituire in 10 anni e non solo, mi devi restituire anche il pregresso. Ovviamente è una cosa talmente grande per il Comune di Pescara ma non solo per il sistema di Comune italiane che è necessario ed è auspicabile ovviamente l'intervento del Parlamento attraverso emendamenti e vari decreti che il Governo Draghi sta facendo per poterlo risolvere. Dico di più, la stessa situazione in termini diversi era per il Comune di Napoli e il Comune di Reggio Calabria. Napoli ad esempio c'è stato un decreto ad hoc che ha stanziato 1 miliardo e 200 milioni di euro per risolvere questa questione. Il paradosso è che Pescara rispetto a Napoli sta meglio e quindi Napoli sono intervenuti, Pescara attendiamo che ci sia un intervento. A dir la verità, per dirla tutta, c'è stato un emendamento ad un decreto che è stato presentato dai parlamentari abruzzesi che in qualche modo attenuava questo problema. Però aspettiamo l'entità del plafond a disposizione del Governo, messo a disposizione per una serie di comuni ovviamente nel quale c'entra Pescara, per almeno azzerare quello che è il progresso perché è inevitabile che 12 milioni e 834 mila euro pagabili alla data del 30 settembre è impossibile. Per quello che riguarda il futuro ovviamente possiamo farlo ma i 12 milioni e 3 è praticamente impossibile. Quindi paradossalmente si può dire che ci fa stare tranquillo il fatto che non è governabile alcuni di Pescara ma che è una partita di alto rango, nel senso parlamentare, che in qualche modo debba risolvere questo problema.